Comandatore, non dovete dubitare, la mafia vi farà vincere. Signori, qualunque mezzo è buono per arrivare al nostro scopo. Non visti un mondo di questi processi, eh? Questi immorali che si appoggiano alla mafia. In un'ora si vince il mondo. Che agiscono rapidamente con minacce. Mi posso vendicare sui tuoi figli. Io sfido chiunque a colpirci. Faremo quello che la comune salvezza ci impone di fare. È meglio cedere che resistere. Barone, voi dite se i figli non mi chiameranno vine, si abbandona la patria. Ma che mica operi con te a uccidere un uomo? Se lui sa che l'ho tradito, non ci faccio la miglior figura, eh? Scelgo la via del dovere. Il popolo non saprà mai che quelli che lo governano sono i suoi ladri e i suoi assassini in guanti gialdi. Grazie. 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 Grazie.